Primo allenamento con i ragazzi di Katoa Ah, di la Ciarna che sta allenando una ragazza Mi sembra un centro di arti marziali giapponese Super tranquillo Loro che allenano proprio i dettagli di ogni atleta Una fegata Ve l'ho già detto che ho comprato degli aggecini nuovi Ve li faccio vedere Non so se si vedono Ho delle calze spettacolari oggi Vado ad allenarmi Pacevo, credo che è a capo Ora vabbiamo a vedere Hola Arnau Hola, che tal? Tutto bene? Come stas? Ben? Ben, ben, ben Tutto bene? Un abrazo Oggi Te vas a poner forte Tengo una cosa di vedere come stas Per questo fin di settimana Per questo fin di settimana Che hai detto? La media maratona? Esta settimana si Estas molto forte Estas perfectamente preparato per correre Pero abbiamo bisogna migliorare questa zona La zona della cadiera E ai tutti i muscoli che vanno a lì, tanto la zona Tanto la abdominal, come i quadriceps, come i glutei Quattro questa zona hai che Compactate un po' di male Per che le 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 sono sono lo più tardi possibile. Oggi. Perfetto. Vuelve alla posizione. Cuidado. Avanzato che io, e poi potrei dire dire il proprio il proprio costo. Ecco, ragazzi, nuovamente le sensazioni con Katoa. Con Arnau, trainé muscoli che non conoscevano che erano. Quindi, grazie a tutti, Arnau, perché oggi ho risposto un mondo nuovo di le muscoli. Ha stato un piacere, mi ha piaciuto vedere sufrir un po' solo oggi, anche se può dare abbastanza di più. Sì, come ti pare? Puoi dare molto più, e hai ancora di trovare nuovi muscoli. Non lo credo, non lo credo. E quindi, cada vez vas a andare più rapido e con miglior sensazione. Perfetto, perfetto. De vero che mi ha piaciuto, e inizio a vedere lo che vuole dire entrenarsi, di vero, in dettagli. Exacto, è importantissimo lo dettagli, è lo che marcano la differenza, già sai. E io credo che dopo di questo allenamento voi vedi due volte la media maratona del domingo. Seguro, almeno ti vas a superare a ti stesso, sicuro. Sì, sì, se non si presenta nessuno a la media maratona, la vedi a vedi. Estoy sicuro, eh, Arnavo? Sì, sì, sicuro. Sì, sicuro. Grazie a tutti, 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 grazie a tutti. 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 Edu, qual è la strategia di oggi? Iniziamo forti. E finiamo suave. E finiamo ancora forti. E finiamo ancora forti. Penso che prima si subi e poi si subi. Quindi avviamo la scelta per appartare il ritmo. E già mi duele le piedi. Ok, dame un tempo, dame un tempo. Io ho bisogno di un obiettivo. Obiettivo, subire da ore 40 e, ideal, acercarsi a la ore 35. Ore 40. Ore 35. Ok. Preparato? Non lo se. Claro che stai preparato, non si può dubbi. Si, si, preparatissimo. No, 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 no. Hello darkness my old friend. Triptis. Ha, ha, ha. Ganz anders, wenn wir den Gesichtsvergleich machen. Edwin, Shilane Flanagan, die Amerikanerin, die bezeichnet sich selber, obwohl sie... Es ist eigentlich was ganz tolles. Sie gehen da rein und sagen, hey... Immer so gut gelaunt, das kann noch gar nicht sein, aber es ist wirklich erfrischend, wenn man mit den beiden spricht. Bisschen groß, Körpersprache, so wichtig dann... Bisschen groß. Questa è l'atmosfera post-gara ragazzi. Tutti felicissimi, tutti a terra, tutti a mezzo luglio. Edu! Ven aquí Edu! En quanto mi aveas dicho che teniamos che acabar? Hombre, io si, acababas por debajo dell'ora di 40, già stava contento. E se te acercabas a la hora di 35, aún más. En quanto hemos acabato hoy? Se ve? Se ve? Chicos! 1.33 Puta bestia! Una puta magna! Chicos! Hemos acabado a 3.40 al último kilómetro. Una bestia! Osea, fuego! Y que me decías durante... Durante la carrera, este cabrón me seguía diciendo, tienes que ser mi sombra! Quiero fuego en tus piernas! Yo que decía, Edu, para que no puedo más, para que no lo tengo más. Y el que me decía, mira que te estoy mirando las pulsaciones y puedes más. Y yo decía, nooo! No puedo mentir! Me he configurado su pulsómetro en mi reloj! Es más listo de lo que pensaba, eh? Bueno, fue una pasada, lo disfruté un montón. Y bueno, que te parece, que vamos a hacer? Hombre, estoy muy orgulloso, tío. Hemos apretado, hemos empezado fuertes, y hemos acabado aún más fuertes, que era el objetivo. Pero, por la próxima semana no me tengo que entrenar. Di todo... Jaja! No, no! Pausa! Stop! Relax! Luego te paso el planing, chavale, olamos! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!